Il palazzo municipale di Nicosia ha ospitato nel suo androne una mostra del tutto particolare una raccolta di scatti fotografici con protagonisti gli eroi in calzoncini corti che allietrano le nostre domeniche sportive. Agostino Incardona, tifosissimo del Nicosia e Salvatore Leonardi, ex calciatore bianco-rosso hanno raccolto una serie di fotografie dell'Unione Sportiva Nicosia storica società calcistica fondata nel 1966 e che per anni ha compiuto le sue imprese sportive giocando nei campi siciliani delle categorie dilettantistiche raccogliendo successi, vittorie e sconfitte. E' stata messa in piedi una vera mostra museo non solo con foto di squadre e calciatori dell'Unione Sportiva Nicosia ma anche di altre società sportive a partire dal 1948 con protagonista il barone Stefano Lamotta fino ai tornei delle Madonie degli anni 50-60. Una serie di scatti che ha destato emozione e qualche lacrima nei tantissimi dirigenti ed ex calciatori che hanno onorato la gloriosa casacca bianco-rossa. Si sono ritrovati dopo diversi decenni i miti di un calcio in bianco e nero i presenti d'amico e la blunda il maestro di tante generazioni di calciatori Mister Lullo e tantissimi calciatori ormai con i capelli bianchi ma con i ricordi ancora vivi ed emozionati nel rivedersi durante le azioni di gioco che ricordavano perfettamente come se si fossero svolte qualche giorno prima. Laura Consigliere ha celebrato questo evento presentati due libri sui tornei delle Madonie e donati al comune di Nicosia dai suoi autori Lillo Andolina e Franco Alleri. Dopo i saluti del sindaco di Nicosia Luigi Bonelli si sono alternati al microfoni tanti protagonisti di questa epopea del calcio nicosiano. Agostino Incardona ha introdotto diversi interventi segnando i diversi periodi storici ed i suoi protagonisti. Una manifestazione ben riuscita che ha coniugato storia e ricordi emozioni e sentimenti amicizia e rispetto dei valori una festa dello sport nel vero senso e nel più ampio ed alto significato.